Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video e in questo mio nuovissimo video faremo il confronto tra Doom Boom Gold, Doom Boom 5G Gold e Doom Boom 5G Silver cominciamo col Silver e non è male subito dopo il Gold caspita era fortissimo non so, mi dite voi cosa